io spero sia tutto un grande scherzo una grande presa in giro perché se no è grave perché se no è veramente grave perché se no non ho parole cioè non ho veramente parole e attenzione non ce l'ho con lui ovviamente non ce l'ho neanche con il giocatore a livello tecnico perché comunque secondo me è valido ma è tutto sbagliato è letteralmente tutto sbagliato in questa operazione non c'è una cosa che stia andando bene ma anche dal punto di vista della juve in tutto questo che ok si prende cherubini operazione formalmente slegata ma diciamo che la trattativa penso sia stata unica non ora ti chiamo per uisen attacchi il telefono e mi richiami per cherubini trattativa formalmente separata ma di fatto insieme no però a parte cherubini che è un altro discorso uisen alla roma non ha alcun senso né per noi né per lui né per la juventus cioè è una cosa che non riesco veramente a spiegarmi comunque prima di parlarne iscrivetevi like e commento qui sotto e poi lasciate anche un bel follow così di incoraggiamento su instagram e tiktok come sempre i link li trovate in bio detto ciò allora uisen innanzitutto chi è ma da dove è uscito fuori giocatore giocatorino meglio veramente un ragazzino più piccolo di me 2005 attualmente della juventus under 23 si è fatto quindi la serie c con la juventus vicinissimo al frosinone ma murigno lo chiama al telefono lo convince a venire a roma e quindi sarà lui probabilmente il colpo invernale in difesa ora non escludo che possa arrivare qualcun altro ma se arrivasse qualcun altro in difesa sempre si parla qualcuno ha fatto il nome di bonifazi comunque se arrivasse qualcun altro non avrebbe avrebbe ancora forse meno senso il colpo uisen per tutte quante le parti coinvolte comunque uisen viene a roma in prestito e qua già c'è la prima cosa abbastanza grave viene in prestito per 700 mila euro quindi prestito oneroso e uno dice riscatto che ammonta no nessuna monta nessun riscatto niente prestito secco 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 quindi fra sei mesi esattamente il primo luglio 2024 sarà nuovamente alla continassa a prescindere dal rendimento quindi se uisen putacaso esplodesse ok può essere perché comunque il talento ce l'ha sicuramente se esplodesse la juventus ce l'ha ce l'avrebbe di nuovo comunque la juventus lo riprenderebbe se non esplodesse la roma avrebbe avrebbe buttato comunque 700 mila euro e avrebbe sprecato uno slot per il difensore e quindi non ha senso cioè in ogni caso la roma ci perde perché ok ti fa bene magari ti aiuta in questi sei mesi però poi lo regali alla juventus cioè questo è un affare è un affare per la formula veramente da frosinone con tutto il rispetto ma da succursale c'è è un affare di una squadra che è la succursale di un'altra e che se lo prende lo aiuta aiuta questa squadra la squadra aiuta il giocatore a crescere e aiuta anche la squadra proprietaria a valorizzarlo ma non si è mai visto un affare del genere fra roma e juve si può vedere fra juve e crotone fra roma e sassuolo non si può vedere fra roma e juventus un affare così in cui tu praticamente diventi la succursale letteralmente della juve ti prendi il suo giovane lo fai crescere poi lo ridai indietro e comunque non lo so però anche dal punto di vista della juventus perché dico che neanche a loro conviene perché tanto vale darlo secondo me al frosinone si fa ancora un po' più le osse in un ambiente più piccolo più provinciale in cui ha più possibilità di giocare e di conseguenza anche di crescere e quindi si valorizza secondo me maggiormente a roma è una situazione da 50 e 50 perché c'è sì la possibilità che esploda in palcoscenici anche più importanti ma c'è anche l'opportunità o meglio la possibilità che si bruci quindi roma è una piazza molto rischiosa ma dal nostro punto di vista non ha veramente alcun senso c'era chi si lamentava di bonucci cioè bonucci era esattamente il contrario di huizen un giocatore ormai quasi stantivo andato no sul finire di carriera ma che ti arrivava ti faceva sei mesi ad alto livello e poi tanti saluti e grazie invece no huizen arriva lo devi comunque in qualche modo formare perché è un giocatore che non ha mai giocato neanche in serie b quindi è uno che comunque ha bisogno un attimo di essere formato va dosato bene va fatto crescere va fatto maturare tutto questo in sei mesi perché poi fra sei mesi neanche se ne arriva non ha senso non ha veramente senso la roma è diventata con questo affare una succursale della juventus e si è piegata a proprio una logica da provinciale mi fa specie perché vi ripeto bonucci quando ve l'ho detto bonucci non è il top non è il difensore che era dieci anni fa ma era il miglior difensore che la roma potesse prendere a gennaio e infatti chi arriva arriva huizen che vi ripeto è anche un giocatorino che comunque se la roma l'avesse preso come quinto come sesto in estate avrei detto tanta roba perché comunque uno che il fisico ce l'ha è uno e 95 alto ma è anche molto elegante è molto magrolino è uno che comunque ce l'ha secondo me le caratteristiche psicofisiche da centrale è uno bravo con i piedi è uno anche di gamba è un giocatore che potenzialmente può essere anche molto molto forte quindi non discuto le qualità e le potenzialità del giocatore ma discuto l'affare perché non ha senso è un affare no sense in questo momento per noi perché in questo momento ci serve uno che possa giocare subito già veramente contro l'Atalanta non uno che si ok intanto lo metto poi si vede lo faccio crescere e poi torna la juve non ha senso non ha veramente senso non lo so cioè non riesco a trovare una spiegazione logica a questo affare sono serio non ci riesco non ci riesco ora si spera che esploda ma comunque anche se esplode ok fa sei mesi ottimi da noi ma poi la juve se lo gode la juve ci fa i soldi la roma nada nada basta fra sei mesi caput affare ai titoli di coda torna la juve e fa la fortuna e le fortune anche economiche della juve non lo so non lo so bonucci era 100 volte più funzionale più utile alla causa di huizen preso con questa formula e se dovesse arrivarne un altro che ne so un bonifazzi che a me non fa impazzire per niente ma sicuramente un difensore che ha una parvenza di prontezza comunque se dovesse arrivarne un altro huizen troverebbe pochissimo spazio perché c'è ci sarebbe quest'altro centrale ok poi c'è mancini c'è yorente c'è indica che tornerà c'è kumbula che sta tornando comunque dall'infortunio e quindi huizen quando giocherebbe due partite di europa league così è entrato all'ultimo cioè veramente mi sto sforzando da stamattina di trovare un senso a quest'affare ma come diceva Vasco Rossi questo affare un senso non ce l'ha comunque se voi invece lo trovate mi raccomando scrivetelo perché sono anche io genuinamente curioso ma per me è un affare veramente imbarazzante da quattro penso di non aver quasi mai dato un voto così basso a un colpo della roma ma questo dimostra la totale incapacità di di agire sul mercato capisco benissimo le difficoltà capisco che non ci fosse liquidità ma bonucci lo prendevi per sei mesi e ti prendeva lo prendevi in prestito anche gratuito gli pagavi lo stipendio che so 500 600 mila euro a dir tanto più o meno meno di quanto costerà l'operazione huizen vista a 360 gradi quindi c'era chi si lamentava anche di bonucci c'era chi si lamentava anche di bonucci e per inciso per inciso la situazione grave in difesa era nota la roma già da mesi quindi già il 2 gennaio giorno in cui ha aperto ufficialmente il mercato la roma avrebbe dovuto prendere un difensore ma subito il primo giorno a mezzanotte appena possibile chiuso il colpo invece no si è andato avanti un po' così abbiamo tergiversato e qua della diamo un'occhiata vediamo valutiamo e poi chi esce fuori huizen bah bah comunque prima di chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto ma anche se non vi è piaciuto in realtà perché magari potrebbe piacervene uno successivo iscrivetevi quindi molto importante poi lasciate like e commentate anche con la vostra opinione ciao